Muniti di reti e attrezzature per la raccolta, sono al lavoro gli uomini e le donne lungo i campi per la stagione dell'olio. Procede a gran ritmo anche quest'anno la raccolta delle olive nella nostra provincia. Per questa annata a preoccupare i produttori non sono tanto le qualità e le rese, ma i costi. I rincari energetici hanno fatto crescere la spesa per la molitura senza contare l'aumento di gasolio, vetro per le bottiglie e carta per le etichette. Di Sante, di che aumenti stiamo parlando? Beh, gli aumenti sono importanti come in tutti i settori, abbiamo aumenti del 35-40% sui vetri, i cartoni sono aumentati del 50%, ma anche la fase produttiva ha avuto dei rincari impressionanti perché parliamo del 129% sul gasolio agricolo, del 170% sui concimi o gli altri mezzi tecnici che in agricoltura si utilizzano e purtroppo anche la molitura, ovviamente per il costo energetico, ha avuto rincari di 3-5 euro ogni 100 kg di oliva molita. È vero che state già ordinando ora le bottiglie di vetro per il prossimo anno? Sì, è paradossale, siamo costretti a bloccare i vetri, quindi le bottiglie, per tutto il 2023 senza saperne il prezzo, perché i rischi sono anche di non avere il prodotto finito, il vetro, per poter confezionare i nostri prodotti finali. Ci sarà dunque un aumento sul prodotto finale? Sì, purtroppo gli aumenti non sono per aumentare di più gli ingressi delle nostre aziende, quindi aumentano i fatturati ma non i guadagni purtroppo, perché i costi così arrivati alle stelle fanno sì che pur aumentando il prodotto finito le nostre aziende si sobarchino sulle proprie spalle gran parte degli aumenti che stanno arrivando sul costo di tutti i prodotti. La provincia pesarese, con i suoi 784 ettari di oliveti, rappresenta circa l'11% della produzione regionale, circa 80 ettari, sono compresi nel disciplinare del cartoceto DOP. Nel corso del 2021, secondo i dati ISMEA, nei 21 frantoi pesaresi si sono molite quasi 3.300 tonnellate di olive e prodotte 414 tonnellate di olio. Nata ottima, soprattutto per la provincia di Pesaro, che è un aumento del 20-25% di oliva in più, è chiaro che la siccità e le alte temperature di quest'estate hanno fatto sì che il prodotto sia ottimo o sia sano, la mosca dell'oliva non c'è stata e l'olio quindi le rese non sono altissime, siamo sul 12-13-14%, ma qualitativamente è una perla preziosa che sulle nostre tavole sicuramente è anche dal punto di vista salutistico un ottimo prodotto. L'olio è un prodotto importante anche per il turismo che viene a visitare le nostre aziende, perché di fatto come export abbiamo ogni anno una crescita molto importante sul 10-15%, 2 milioni d'euro di fatturato quest'anno, 15 milioni d'euro di prodotto generale che è nel reparto olivicolo sul sistema Marche. È chiaro che c'è grande richiesta di olio, probabilmente i turisti norvegesi, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Olanda, ma soprattutto Stati Uniti cominciano ad apprezzare il prodotto che sulla dieta mediterranea è fondamentale, che non conoscono molto, ma che sta crescendo, ripeto, e viene apprezzato anche dal punto di vista salutistico. Siamo anche un territorio provinciale molto sostenibile, ossia biologico e anche questo dall'estero viene visto con grande attenzione.